La salute è tradizionalmente è intesa come condizione ottimale di benessere fisico, mentale e spirituale, in armonia con l'ambiente circostante, relazioni sociali, habitat naturale, ecc. A noi invece sembra più stimolante e dinamico definirla come la capacità di autogestire le sfide della vita e di adattarsi ad esse, mantenendo la propria omeostasi. In questa ottica non è la specie più forte quella che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che si adatta meglio al cambiamento e che, in apparente contrasto con il principio della competizione, è capace di creare alleanze strategiche con altri organismi strutturate secondo il principio della solidarietà, perché è l'unione che fa la forza. In linea con tali concetti, il presente evento si propone come un'occasione unica per offrire ai partecipanti lo stato dell'arte più avanzato sulle diverse opzioni attualmente disponibili per la promozione del benessere della persona nella sua interezza corpo, mente, psiche, anima, spirito e nel suo contesto ambientale in senso lato. Sullo sfondo, la visione della vita come risultato meraviglioso di un flusso continuo di energia, materia e informazioni che, originato dal sole, si lascia catturare dalle piante, per rendersi quindi disponibile agli animali e, in definitiva, all'uomo, con la preziosa mediazione di una miriade di microbi amici. Il fil rouge di tutti gli interventi degli illustri relatori che si alterneranno sul podio è sintetizzato in questa affermazione, attribuita ad Albert von St. Georgi Nagirapolt, premio Nobel del 1937 per la fisiologia medicina per le sue ricerche sulla vitamina C. Ciò che muove la vita è una piccola corrente elettrica mantenuta dal sole. In tale contesto è il sistema Redox a intercettare il flusso di elettroni attivato dal sole e a scomporlo con la complicità dell'ossigeno in una serie ordinata di reazioni di ossido-riduzione che, grazie ad una fine modulazione epigenetica, saranno sapientemente sfruttate per gestire in modo ottimale sia le risorse energetiche, trasferimenti bielettronici, sia le risposte adattative, di difesa o di segnale, trasferimenti monoelettronici, alle sfide della vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.